Siamo in estate e spesso ci poniamo il quesito ma le carote fanno abbronzare. Essendo arancioni hanno questo tipo di medialità, noi pensiamo che ci facciano abbronzare. Le carote sono degli ortaggi che di base hanno una caratteristica, contengono del beta carotene, un antiossidante che cerca di svecchiare le cellule che si invecchiano regolarmente nel nostro organismo e cercano di non fare invecchiare le cellule nuove, giovani, che devono diventare poi vecchie, ritardano questo invecchiamento. Questo è il punto di riferimento della carota, dopodiché hanno anche degli zuccheri. Carota mangiata cruda, basso indice glicemico, carota cotta invece con un indice glicemico superiore. Ma allora perché parliamo di abbronzature? Perché sono di un colore dorato. In effetti il colore dorato non è un colore che è l'abbronzatura, perché è la melanina che è quella che ci fa abbronzare grazie alla persistenza sulla pelle dei raggi uva e dei raggi UVB. E allora in quel caso si scatena questo meccanismo. Cosa potremmo rischiare noi? Potremmo rischiare che la pelle si brucia, ci sono le ustioni del raggi UVB e allora in quel caso la carota ci aiuta a disinfiammare, ci aiuta a farli diventare antiossidanti. In questo caso può diventare un mezzo per aiutarci nella abbronzatura, ma certamente non fa abbronzare.